Michel Causo, dietro l'omicidio ci sarebbe un giro di video hot che ritraevano la giovane. È questa la nuova ipotesi della procura di Roma contro il presunto omicida, o che aveva già provato con un'altra sua compagna che vi aveva rubato il profilo Instagram. Un bulletto che per campare viveva di espedienti.